Ogni volta che si entra in una stanza, si può notare Samuel accanto a Rex. Il piccolo si arrampica sulla schiena del cane e gioca con il suo pelo, ed è sempre curioso di vedere quanto sono puliti i denti di Rex. Rex, da parte sua, lascia che tutto ciò succede senza mai opporsi. È raro vedere un cane reagire in modo così pacato e tollerante. La loro unione è così bella che può emozionare chiunque li osservi. Samuel è diventato il centro del mondo di Rex, ma questa amicizia era inaspettata. Adottato sei anni fa, Rex era un dolcissimo batuffolo d'amore che ha conquistato il cuore di tutti. Era il cocco della casa, e ogni momento libero veniva trascorso con lui. Quando Samuel è arrivato, c'era la preoccupazione che potesse non andare bene. Ma, una volta che Samuel è stato messo giù, e lasciato che Rex si avvicinasse, tutti i dubbi sono svaniti. Rex era estremamente felice di vedere il suo nuovo fratellino, quasi come se l'avesse aspettato per anni. Da quel momento, la loro amicizia ha iniziato a fiorire. Rex non lasciava mai Samuel da solo all'inizio, lo sorvegliava anche mentre dormiva, e lo proteggeva costantemente. Quando Samuel ha iniziato a camminare, Rex è diventato la sua ombra, seguendo ogni suo passo per assicurarsi che non gli accadesse nulla. Insieme hanno iniziato a esplorare tutta la casa, strisciando sul divano e giocando con i giocattoli. Una volta che Samuel ha imparato a sedersi nel suo seggiolone, i loro momenti insieme durante i pasti non sono mai stati noiosi. Giorno dopo giorno, Rex ha guadagnato fiducia intorno a Samuel, non esitando a coprirlo di baci e a controllare le sue orecchie, proprio come fa Samuel con lui. La loro amicizia è cresciuta nel tempo fino a diventare fraterna, aprendo un nuovo capitolo nella loro vita. La loro unione poteva svilupparsi in diversi modi, ma osservandoli ora, è evidente che tutto è andato alla perfezione. Rex mostra il suo lato più amorevole, premuroso e genuino quando è con Samuel. È una fortuna che Samuel possa crescere accanto a un amico così straordinario. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie